Allora, riprendiamo, tornando all'argomento più generale, e quindi spendiamo quest'oretta più rilassante alla fine della giornata, con argomenti un pochino più discorsivi, tornando ad analizzare quelli che sono i punti di vista sui sistemi informativi. Quindi, in parallelo noi, diciamo così, in due lezioni su tre alla settimana affrontiamo gli argomenti più tecnici di modellazione più il laboratorio, e l'altra ora rimanente invece cerchiamo di concentrarsi sul contesto in cui questi argomenti tecnici vengono utilizzati. Quindi alla fine del corso spero che avremo la visione di insieme, non solo di i vari modelli, come si usano, ma anche che cosa servono, come sono relazionati tra loro e come si inseriscono nel modello organizzativo dell'azienda. Allora, avevamo già visto insieme questo schema macro, che ci diceva che il sistema informativo lo potevamo vedere dal punto di vista dell'information technology, dal punto di vista funzionale o dal punto di vista organizzativo, e ci dava tanti punti di vista, tante sfumature diverse, e cominciamo a dettagliare un po' che cosa troviamo all'interno di questi vari tipi di modelli. Allora, quello più concreto e più legato, se vogliamo, agli altri argomenti del corso è il modello information technology, il modello tecnologico, che questa tassonomia l'abbiamo già, diciamo, brevemente accennata la prima lezione, si divide il modello tecnologico e il modello applicativo, dove essenzialmente il modello tecnologico riassume gli apparati, gli strumenti, che sono funzionali a poter far funzionare, per poter supportare l'esecuzione del sistema informativo. Quindi ci saranno i server, ci saranno computer che fungono al server, ci saranno i computer che fungono da client, che vengono dati in mano agli utenti del sistema informativo, che possono essere dei pc, possono essere dei tablet, possono essere degli smartphone, possono essere dei terminali di altro tipo. Voi quando salite sull'autobus e bippate la tesserina con l'abbonamento, quello è un client, di dietro c'è un piccolo processore che comunica col server della GTT per scalarvi l'abbonamento, per scalarvi le corsi e cose di questo genere. Quando voi passate un codice a barre per entrare, per fare l'imbarco in aereo, ecco, quel lettore di codice a barre è un tipo di client, quindi non immaginiamoci che i client siano solo computer, si può accedere o interagire con un sistema informativo in molte modalità, di questo poi proveremo a occuparci un po' quando parleremo di interazione con l'utente. Però i dispositivi, ci sono dei dispositivi di calcolo, i server che gestiscono i dati, gestiscono i processi, che sono veri e propri calcolatori e invece c'è tutta una miriade di forme e configurazioni diverse dei client che permettono agli utenti di interagire con il sistema informativo. È chiaro che il modello più semplice che abbiamo in mente è l'utente seduto davanti al computer che usa un browser per fare delle cose, fare inserire dei dati, dei form o cliccare caselle, ma quello è solo una tipologia di client, ultimamente ne stanno nascendo molti di più, molte tipologie diverse, anche nascoste in certo senso, nascoste dietro oggetti di uso comune. Sono tutti oggetti che hanno come scopo principale quello di far interagire in qualche modo l'utente con il sistema informativo, dove interagire, in questo contesto vuol sempre dire scambiare informazione. Cioè l'utente facendo una certa azione da un'informazione al sistema informativo o il sistema informativo da una certa informazione all'utente, attraverso un dispositivo che c'è da qualche parte. E questi client e questi server tra di loro in qualche modo dovranno essere interconnessi. Quindi c'è tutta la tecnologia delle reti di telecomunicazioni, reti cablate, reti senza fili, reti geografica, DSL, fibra ottica, eccetera, eccetera, che sono infrastrutture che permettono il collegamento tra questi nodi di elaborazione, client e server, e internamente al sistema informativo ed esternamente al sistema informativo, cioè per permettere al sistema informativo di colloquiare con altri sistemi esterni. Perché nel momento in cui faccio un ordine il mio sistema informativo si dovrà probabilmente integrare o scambiare dei dati col sistema informativo dei miei fornitori di logistica che verranno poi a prendermi la merce o me la spediranno a casa. Quindi molte delle interazioni che il sistema informativo compie sono con l'utente, ma molte sono anche con altri sistemi informativi di fornitori di servizi. Possibilmente evito che dal mio sistema informativo salti fuori un foglio di carta che devo stampare, firmare, faxare a qualcun altro che prenderà gli stessi dati e di metterlo nel suo sistema informativo. Adesso tante cose purtroppo funzionano ancora così, ma sarebbe molto meglio che i sistemi informativi si parlassero direttamente. Molto meno tempo, molta meno gente, molta meno carta, per ottenere come risultato lo scambio di informazioni. Anche per questo serve che tutti i sistemi informativi siano in qualche modo interconnessi tra di loro attraverso un'opportuna struttura di rete. Mentre sulla parte alta il modello applicativo è l'organizzazione del software. Software che gira sul server, software che gira sul client e così via, che compongono, che specificano le vere e proprie funzionalità del sistema informativo. Se io entro in un data center, apro l'armadio e vedo un computer, non so che cosa sta facendo quel computer lì. Posso dire se è più o meno potente, se ha più o meno memoria, più o meno disco, più o meno CPU. Ma poi ti suono neanche dire che il sistema operativo fa girare se lo vedo solamente dal punto di vista tecnologico. Devo capire qual è il software che si sta girando sopra per capire che cosa fa, a quali utenti serve, a quali processi sta gestendo. Quindi la vera natura del sistema informativo la troviamo qua sopra a livello del software. Sotto l'hardware deve essere sufficientemente ben connesso, sufficientemente potente e sufficientemente pervasivo, cioè ovunque i client, da potermi permettere di eseguire software. Però questa è la piattaforma abilitante, da sola non definisce le funzionalità. Se vogliamo un ragionamento contrario, prima definisco le funzionalità che mi servono. Queste mi diranno qual è il mio software, mi diranno qual è la capacità di dati che il software deve gestire e a questo punto, sapendo quanti dati devo gestire, quanti utenti, con che velocità, eccetera, decido di quanto hardware ho bisogno, di quanta tecnologia devo comprare. Tenete presente che al giorno d'oggi le tecnologie sono sempre più commodity, sono sempre più oggetti che compro sul momento quando mi servono al mercato e c'è una serie di fornitori che spesso tendono ad essere abbastanza intercambiabili in termini di prestazioni, di servizi che ti danno. È facile da pensare in termini diretti. Se io mi stufo del mio fornitore di connettività posso passare a un altro, se mi stufo di Telecom posso passare a Tiscali, posso passare a Fastweb o quello che sia, cambio operatore e quindi acquisto un servizio che è il servizio di connettività da diversi tipi di operatori sul mercato. Ecco, la cosa un po' strana è che la stessa cosa posso fare tipicamente con le risorse di calcolo. Noi stiamo passando da un modello in cui le risorse di calcolo erano tipicamente possedute, cioè se io avevo un sistema informativo dovevo avere una stanza in cui c'erano i server che avevo comprato io e installato io, ci stiamo spostando invece verso un modello in cui i server che uso non sono di mia proprietà ma di affitto a ore da chi ha i centri di calcolo da qualche parte, il cosiddetto cloud. Poi cloud vuol dire niente, vuol dire i computer di qualcun altro, cloud, il mio software gira su hardware che è di qualcun altro di cui ho affitto una fetta della potenza di calcolo, la fetta che mi serve. E mi sgravio di tutti i problemi di gestione, configurazione, backup, alimentazione elettrica, aria condizionata eccetera, con un milione di problemi di avere le persone così referibili 24 ore su 24 se per caso salta la corrente o cose di questo genere, lo delego a un fornitore che mi dà come servizio una CPU sempre accesa e sempre pronta per me, su cui posso far girare il mio software. Quindi di questa parte del modello tecnologico, come dicevo, sempre più si sta andando proprio per motivi di facilità di gestione che anche di economia di scala verso delegare a terzi la gestione della piattaforma tecnologica. Poi ci sono ovviamente grosse realtà, una grande banca ha sia per ragione di opportunità, di segretezza che per ragioni comunque di scala, di dimensione, il centro di calcolo ce l'ha sua, c'è la casa sua, c'è la proprietario, ma in realtà più piccole, piccole o medie aziende avrebbero un costo troppo elevato di gestione e quindi tendono ad andare verso soluzioni in hosting esterne. Quindi c'è questo tipo di evoluzione proprio nel modello tecnologico. Nel modello applicativo dal punto di vista gestionale anche qua ci sono, se vogliamo, due grosse filoni tra chi cerca di acquistare o usare dei sistemi informativi esistenti, già fronti, già fatti da altri, e chi invece si deve sviluppare, diciamo da zero, un sistema informativo fatto su misura per le proprie esigenze. ovviamente se vado su prodotti standard dovrò adattarmi a quello che questi prodotti mi offrono e in alcuni casi ha più senso, in altri ha meno senso. In alcuni casi, che ne so, se devo avere un software di contabilità, paghe e contributi, queste sono cose standardizzate, sono uguali per tutti. Quindi è molto probabile che un software standard non possa andare bene alla mia realtà. Se invece ho bisogno di un sistema informativo che mi gestisca qualche aspetto della produzione, che ne so, se io sono un'azienda che vive acquistando e vendendo dei fumetti online in formato digitale, vallo a trovare un sistema informativo che faccia proprio quello, e abbia la piattaforma di pubblicazione su Kindle o su altro, boh, probabilmente dovrò farlo su misura perché è il mio core business, è la mia specificità e se è specifico della mia azienda non troverò un prodotto standard che lo supporta. Quindi anche qua c'è un ventaglio abbastanza ampio di possibilità di acquisizione di questo software. Lo compro, lo faccio costruire e se lo faccio costruire, lo faccio costruire da un team interno di sviluppo oppure incarico un'azienda esterna per svilupparlo? E qui, questa è la domanda forse più difficile di tutte, perché un team interno va costa, va formato, però mi permette di avere la massima flessibilità e mi permette anche di seguire lo sviluppo del sistema informativo. Un team esterno va bene se devo sviluppare un prodotto, una tantum e poi me ne dimentico, ma perché una volta che ho sviluppato un prodotto, se tre mesi dopo ho bisogno di una modifica, di un'aggiunta, devo di nuovo trovare qualcuno, probabilmente lo stesso, a questo punto divento dipendente dalle conoscenze del mio sistema che ha qualcun altro. Sto mettendo il mio portafoglio nella tasca di qualcun altro, il mio know-how, la conoscenza dei miei processi, la possibilità di modificare i miei processi dipende da qualche consulente che mi ha fatto il sistema informativo. Se lui non vuole più farlo o se lui mi raddoppia il prezzo, io sono ostaggio. Quindi sembra bello il modello A, delego a qualcun altro questa realizzazione, però poi divento dipendente da ciò che fanno questo consulente. D'altra parte dice, mi tengo gli esperti in casa, me li faccio, ma li devo pagare tutti i mesi. E è un costo non differente soprattutto se devono essere persone specializzate nella costruzione di questi sistemi informativi che sono bestie molto complesse. Quindi a questa ultima domanda non c'è una risposta semplice, perché stiamo pensando a sistemi informatici molto complessi. Quindi di fronte alla complessità dei sistemi da costruire non possiamo pensare di avere delle ricette semplici e non complesse per poter gestire. Questo è un po' il panorama generale. Nel modello applicativo dicevamo già che ci sono vari livelli. Ad esempio io potrei descrivere una qualunque azione di un sistema informativo vedendola dall'esterno del sistema informativo. Cioè la prima colonna, proviamo a leggere la prima colonna da sola, ci racconta cosa sta facendo un sistema informativo dal punto di vista del livello di presentazione, cioè l'interazione con l'utente. Questo sta raccontando come funziona un bancomat. Dice che il sistema informativo mostra una schermata con la richiesta di prelievo di soldi e acquisisce l'informazione dell'utente di qual è l'importo che vuole prelevare ad esempio. Poi mostrerà un messaggio di conferma in cui l'utente potrà annullare oppure correggere oppure confermare e aspetta che l'utente prema un tasto e così via. Nel caso in cui l'utente voglia correggere, fa vedere il messaggio e aspetta che corregga eccetera eccetera. Quindi sto descrivendo il sistema informativo come lo vede l'utente. Però dietro a ciascuna di queste azioni ci sono delle regole, quella che in gioco informatico chiamiamo le regole di business o il livello logico o la logica di business, più o meno che non sta per soldi ma sta per processi che devono essere gestiti, le regole che vigono per gestire quel tipo di processo. Che analizza le richieste dell'utente e decide se accettarle o no e se accettarle decide qual è l'approssimazione da fare. Quindi se l'utente chiede di prelevare 1000 euro lui gli deve dire di no. Dice l'ammontare che l'utente, il sistema informativo verifica che il dato che l'utente ha inserito sia all'interno del range consentito. Se per caso non è valido l'utente chiede all'utente di correggere oppure di annullare la richiesta. Hai scritto 1000 euro, vuoi correggere o vuoi annullare? Nel caso in cui l'utente dica annulla allora blocca tutto. Altrimenti guarda qual è l'ammontare nel conto corrente, la disponibilità. E se la richiesta che ti ho fatto non è 1000 euro, sono solo 50 euro ma sul conto corrente ne ho 30, ti dico lo stesso di no. Quindi il livello della logica di business all'interno del sistema informativo continuamente controlla la validità delle operazioni che l'utente richiede. L'utente chiede una cosa, questa cosa si può fare o no? Ci sono le condizioni per poterla fare oppure ci sono le condizioni per farne una diversa. Il livello della logica sa che cosa deve essere fatto quando, cioè quando certe operazioni devono essere fatte, quando certe operazioni possono essere fatte, quando invece devono essere rifiutate, da parte di quali utenti e così via. In un sistema informativo non posso fare qualunque cosa in qualunque momento, a qualunque costo. Devo sottostare a certe regole, a certi vincoli. Vincoli logico-temporali. Una cosa va fatta prima di un'altra e non dopo, quindi ho dei vincoli temporali o anche dei vincoli logici sul fatto che tu non puoi prelevare più di quanto non abbia disponibile. O magari puoi ma accetti di avere un prestito e quindi di pagare un interesse passivo eccetera eccetera. Allora ci vuole un'altra videata in cui chiedo la conferma di accettare questo. Però farò cose diverse a seconda che certe condizioni si verifichino oppure no. Questo livello delle regole è quello che garantisce l'integrità dei dati sottostanti, che l'utente non faccia operazioni illegittime e allo stesso tempo è indipendente dall'interfaccia utente. Adesso qui stavamo parlando di un bancomat, quindi il bancomat deve essere imbullonato al muro, no? Ma in generale per un sistema informativo uno può pensare che sono l'interfaccia web e l'interfaccia mobile, che sono diverse. Saranno diversi i bottoni, le icone, i menù, in quella mobile magari tendenzialmente è molto più semplificate. Ma le regole a cui devono sottostare sono le stesse. Non è che da web io non posso fare un bonifico se non ho la disponibilità e invece da mobile riesco. No. Sono livelli di interfaccia, di presentazione diversi, montati sopra lo stesso livello di logica. E tra l'altro il livello delle regole di business tende a durare, essere più duraturo rispetto all'interfaccia. Domani salta fuori il nuovo modello di tablet, oppure abbiamo l'applicazione di bancare sullo smartwatch, anche qui è da rifare tutto, dobbiamo buttare via tutto e rifare una cosa nuova perché sono cambiate le modalità. I siti web che si fanno oggi rispetto a quelli che si fanno dieci anni fa non hanno nulla che spartire, sono completamente diversi, progettati in modo diverso, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista di dove sono le informazioni, come sono messe, del layout, della grafica. Ma le regole che stanno sotto sono sempre le stesse. Quindi è interesse del sistema informativo di chi lo modella tenere ben separate queste cose. Io devo dirti, saperti dire quali sono le regole logico-temporali a cui deve sottostare il sistema indipendentemente dall'interfaccia. Infatti noi in questo corso lo tratteremo in due momenti diversi. Le regole qua saranno modellate col modello di processo, invece le azioni che può fare l'utente le modelleremo con i casi d'uso e con il mockup, che ovviamente devono rappresentare queste regole, devono veramente accedere a queste regole, ma sono separate. E queste regole ti dicono cosa puoi fare e se lo puoi fare. E il farlo per davvero? E il farlo per davvero sono i dati, è il livello dei dati. Alla fine della fiera il sistema informativo è una cosa che sposta numeri. Noi possiamo farci tutte le pippe intorno a che vogliamo, ma alla fine c'è un database con delle tabelle e dentro queste tabelle ci sono dei valori, numeri o stringhe. Allora l'unica cosa che il sistema informativo fa nella sua vita è spostare questi numeri su stringhe, modificarli, aggiornarli eccetera. Quindi quando io dico ho fatto un bonifico, in realtà ci sarà una casellina che ha il saldo del mio conto corrente che diminuisce di un certo valore, ci sarà un'altra tabella che è l'elenco dei miei movimenti a cui viene aggiunta una riga. Questo è il fare del sistema informativo. Se il sistema informativo fa qualcosa, lascia un segno, io normalmente dico lascia una traccia nel sistema informativo, scusate nel modello concettuale, nei dati. Il sistema informativo ha fatto qualcosa e come faccio a accorgermi che ha fatto qualcosa? Perché i dati sono cambiati. I dati sottostanti al modello concettuale che abbiamo fatto, che facevamo fino adesso, quei diagrammi, o un oggetto in più in una certa classe, oppure un attributo di un certo oggetto in una certa classe è cambiato, oppure ho cambiato una relazione, ne ho aggiunta una, ne ho cancellata una. Tutte le operazioni che fa il sistema informativo si riconducono ad evoluzioni sulla base dati sottostante. Adesso noi la base dati non la facciamo perché è troppo dettagliata, ci accontentiamo di abbozzarla a livello di modello concettuale e quindi vediamo le modifiche che vengono fatte sul modello concettuale. Modifiche o controlli. Ad esempio, quando devo controllare il saldo del conto corrente, chiederò alla base dati dimmi qual è il saldo di tizio. Non vado a modificare nulla per ora perché prima devo verificare se lo posso fare. Poi se lo potrò fare gli dirò fai questa modifica e così via. Il livello di memorizzazione dei dati è separato dal livello delle regole che ti dicono che cosa ci puoi fare con questi dati. È ancora più persistente del livello delle regole di business. Continuiamo con l'elenco della banca perché qui abbiamo una cosa del Bancomat. Quando una banca si inventa un nuovo prodotto finanziario, il conto corrente in cui puoi prelevare nei mesi pari e depositare nei mesi dispari, mi hanno inventato talmente strano che non mi stupirei che mi inventassero anche questa, crea un nuovo insieme di regole. Ma i dati sono sempre gli stessi. Sotto la base dati è sempre la stessa. Invento nuovi processi, nuove regole per gestire quei dati. Quindi ciò di cui ci accorgiamo è che dal punto di vista della sopravvivenza, un modello concettuale, una base dati che noi progettiamo come modello concettuale, è capace di sopravvivere 30 anni, 40, da quando la progetto e sopravvive a diverse evoluzioni del sistema informativo, della logica del sistema informativo, dei processi che usano questi dati e ancora molte più evoluzioni dell'interfaccia utente. L'interfaccia utente la cambio ogni sei mesi, un anno, due anni, la logica dei processi ogni tanto la cambio e dovrò evolvere, dovrò adeguare i miei processi al mercato, all'innovazione, eccetera, ma i dati tendono a sopravvivere per fortuna molto di più, perché rappresentano poi i concetti su cui lavoriamo. Per quello che è importante quando facciamo il modello concettuale non inquinarlo con le informazioni di processo, rappresentare le informazioni che mi servono e non che cosa ci devo fare. Che cosa ci devo fare lo dico a parte, perché poi magari cambia, ma lo stesso modello concettuale può gestire vari modelli di business diversi, modelli di gestione diversi. Nel nostro hackathon, dicevo la volta scorsa, che il giudice sia stato scelto dall'organizzatore, sia stato estratto a sorte, sia stato votato dai partecipanti, non mi interessa, il modello è sempre lo stesso. Il modo con cui gestisco i giudici potrebbe essere anche una valutazione tra pari, cioè ciascun partecipante valuta un voto agli altri, ma il nostro modello concettuale funziona anche in quel caso, è robusto rispetto al cambiamento dei processi. Allora, questo dal punto di vista della progettazione. Dal punto di vista di implementazione, molto spesso abbiamo team di persone o sicuramente competenze molto diverse in questi livelli. Cioè la persona che è in grado di progettarvi, ottimizzarvi una base dati, in grado di gestire tabelle con milioni di record e centinaia di migliaia di accessi a secondo, ha una competenza molto specifica sulle basi dati, sulla replicazione delle basi dati, sulle prestazioni delle stesse e così via. Chi lavora sulla logica invece è più un programmatore che noi chiamiamo di livello applicativo, cioè deve costruire un'applicazione che applica certi workflow, certe regole, quindi più un softwareista, che poi accede alla base dati quando ne ha bisogno, usando magari le query che qualcun altro ha progettato per lui, perché sono ben ottimizzate per quel tipo di modello dati. E chi fa il frontend, chi fa l'interfaccia grafica, ha ancora una formazione, un background diverso. Questo è uno che ha in testa tutti i casi possibili in cui può incappare il sistema per essere sicuro di controllare tutte le possibili condizioni. Questo qui ha in testa l'utente, la facilità d'uso e la velocità di risposta. E sono due mestieri diversi, usano linguaggi di programmazione diversi, ambienti di programmazione diversi e hanno specialità, skill diverse tra di loro. Quindi di solito il sistema informativo coinvolge figure tecniche con professionalità anche molto diverse tra di loro. Per quello che è difficile coltivarsi un team di sviluppo interno, perché deve avere una certa dimensione minima per poter fare un lavoro decente. Altrimenti se prendi una persona esperta in database e gli fai fare un'interfaccia utente, viene fuori una schifezza. Se prendi una persona esperta in interfaccia utente e gli fai fare un database, viene fuori una cosa lentissima e magari poi a un certo punto i dati si sballano perché non ci sono dei controlli di integrità. E questi sono i tre macro livelli, poi in casi più complessi ci sono più livelli ancora, ma a livello diciamo così più alto della nostra discussione può bastarsi questo tipo di distinzione. Riprendendolo, il livello di presentazione è il livello che genera e gestisce l'interfaccia utente. Qui c'è un esempio di interfaccia utente via web, questo è un disegno bruttissimo. Questo è il tipico esempio di interfaccia utente che è progettata troppo vicino ai dati, pensando troppo ai dati. Sembra quasi tabelle, sono tabelle, però molti gestionali che vedete in giro sono brutti così. Questa è una foto vecchia, vedete internet explorer, versione chissà quanto. Però il layout di molti sistemi è di questo tipo qua. Interfaccia utente che non ci vergogniamo a definire brutte. Poi magari chi l'ha fatta dice sì sì sarà anche brutta ma c'è tutto, ci sono tutte le funzioni che ti possono servire, tutti i filtri che ti possono servire, tutti i bottoni, è vero, può darsi che sia vero. Anche perché se voi pensate le funzionalità di un sistema informativo aziendale sono molte di più, è molto più complesso che non il tipico sito web, la piattaforma social tal dei tali che alla fine ha poi quattro funzioni in croce. Non ha quella gran complessità implementativa, funzionale. Però questo è un esempio di un'interfaccia web non particolarmente bella da vedere, non particolarmente funzionale. noi impareremo poi verso la fine del corso che bisognerebbe cercare di separare quella che è la complessità funzionale, cioè il numero di cose che posso fare, dalla complessità d'uso, cioè quanto è facile o difficile da usare, quanto è complicato da imparare a usare. Questo è un concetto che si è sviluppato ultimamente, diciamo nell'ultimo decennio, mentre prima non interessava. Il livello logico appunto è fatto di regole, di software essenzialmente, che controlla regole, applica regole e fa delle elaborazioni, dei calcoli, eccetera, sulla base dei dati che sono presenti nel livello dei dati. Questo è il livello più di programmazione. Sì, la programmazione c'è anche nell'interfaccia utente sicuramente, perché se quando premo questo viene fuori una cosa, se quando premo questo viene fuori una cosa, dipende ovviamente dal codice software che è stato usato per programmare questa interfaccia utente. Però è codice al servizio del disegnare l'interfaccia utente, in certo senso. Mentre a livello logico il codice definisce esattamente le regole, è il codice più critico a quello di livello applicativo, perché se sbaglio qualcosa lì il sistema fa una cosa diversa da quella che dovrebbe. Quando ordino un, che ne so, un pacchetto di caramelle me ne ordina mille, perché è sbagliato a mettere la virgola in un certo punto, in una certa istruzione del codice. E poi c'è il livello dei dati che essenzialmente fatto di uno o più database, quindi chi di voi ha fatto il corso di base di dati sa benissimo di cosa stiamo parlando, che memorizza i dati al servizio della logica di business. Cioè il database è il soggetto più importante, perché tutti i dati sono lì e di solito tende ad essere il collo di bottiglia dal punto di vista delle prestazioni di calcolo. Cioè se devo comprare più hardware di solito è perché il database ha bisogno di più ossigeno, di più CPU, di più calcolo. Ma di per sé è un soggetto passivo. Un database è lì e sta fermo. Se nessuno gli dice niente, lui non fa nulla. Lui esegue operazioni solo quando qualcuno gli manda una query. E chi le manda la query? Il livello logico. Quindi di nuovo è il livello logico che è responsabile del fatto che i dati vengono elaborati in modo corretto. Poi il database è il responsabile di mantenerli questi dati, aggiornarli, fare interrogazioni e così via. Questo dal punto di vista logico. Allora questi tre livelli che abbiamo descritto dal punto di vista logico si mappano a un certo punto sul livello tecnologico. Per dire, se ho un sito, un sistema informativo piccolo che gestisce un piccolo gruppo di utenti e una quantità di dati non mostruosa, magari mi basta un computer solo per gestire i tre livelli, per ospitare sia il software dell'interfaccia utente che quello della logica del database. Il sito da cui scaricate il materiale del corso è così. È un sito web fatto con un sistema di content management con qualche decina di pagine. Io ci carico i contenuti, voi li potete scaricare, guardare, consultare, ma tutto il database, la logica e l'interfaccia utente gira tutta su un solo computer. In realtà su un pezzo di un solo computer, perché è una macchina virtuale all'interno di un computer su cui ci sono anche altre macchine virtuali. Perché il carico di lavoro è modesto e quindi non richiede particolari risorse tecnologiche. Se invece andiamo a prendere il server di un servizio più complesso, se prendete i server che stanno dietro a Google, che stanno dietro a Facebook, allora a livello di presentazione probabilmente ci saranno centinaia di macchine, a livello logico ce ne saranno altre centinaia di macchine e a livello di database ce ne saranno molte di più per gestire una certa tipo di funzionalità perché c'è un carico di lavoro dato dal numero di utenti molto più elevato. Quindi a seconda, non tanto della funzionalità che deve implementare il sito, ma a seconda del carico di lavoro a cui il sito è sottoposto. Il carico di lavoro dipende dal numero di utenti, dipende dal numero di operazioni che questi utenti fanno, dalla frequenza con cui accedono. a seconda di questo dovrò mappare i vari livelli logici dell'architettura tecnologica sui livelli fisici, sui server ad esempio. Mi serve un computer per gestire tutti i livelli, mi servono 10 computer per gestire, 3 per il livello web, l'interfaccia, 2 per il livello logico e 4 per il livello dati. Questo è un problema di dimensionamento del sistema e di mapping tra i vari livelli logici e i livelli fisici. Tra l'altro è un problema dinamico, nel senso che se io ho un sistema che oggi ha 100 utenti e domani ne avrà 1000, devo progettare il sistema in modo che possa essere scalabile. Io possa far crescere la mia architettura tecnologica a parità di software, perché alla fine l'applicazione è la stessa. Ho più utenti, mi serve più ferro, mi serve più hardware per poterli gestire e dare dei tempi di risposta recenti. E quindi questa configurazione di mapping di livelli logici su livelli fisici deve essere facilmente modificabile e facilmente estendibile. E noi siamo in continua evoluzione da questo punto di vista, cioè noi arriviamo da modelli che arrivano dagli anni 80 in cui tutta l'elaborazione viene fatta su un unico grosso computer, un server centrale, a modelli invece in cui abbiamo più nodi di calcolo, più server, diciamo, ciascuno di quali svolge un certo sottoinsieme di funzioni. E poi questi server in qualche modo si parlano tra di loro. Il modello ipercentralizzato, che inizialmente era quello dei mainframe, grossi calcolatori anche molto voluminosi, poi adesso le dimensioni si sono ridotte, ma la nozione comunque è sempre quella di avere un server centralizzato, si sta un po' spostando su avere server multipli che gestiscono funzioni diverse. Per facilità di gestione e anche per facilità di evoluzione tecnologica. Perché c'è un server che è installato con un certo software, con un certo linguaggio di programmazione, con certi framework di programmazione, che sono stati inventati negli anni 90, adesso se ne andiamo negli anni 2010, come decade, e vent'anni dopo usiamo tecnologie diverse. Allora, avere sullo stesso computer linguaggi, framework, tecnologie molto diverse è difficile, proprio dal punto di vista sistemistico. A volte non è sempre possibile. Allora si prepara di avere server diversi, che corrispondono alle varie fasi tecnologiche di evoluzione nel sistema informativo, e su ogni server gireranno sotto insieme di funzioni, e questi server poi in qualche modo si parleranno tra di loro, o di sicuro condivideranno le stesse basi dati. questo è brutto, ma lo vedete anche voi. Quando aprite il portale della didattica, ogni funzione che voi selezionate salta fuori in un modo diverso, con una grafica diversa e con un'interfaccia diversa. Fino a due o tre anni fa, quindi magari vi ricordate dei primi anni, c'era tutta una parte di procedure che richiedeva il caricamento di un applet java, vi ricordate che dovete installare il java per poter fare il carico didattico, eccetera. Poi quello l'hanno migrato a una tecnologia nuova. Adesso non serve più, è stato rifatto con una tecnologia nuova. I dati sono sempre gli stessi, l'interfaccia è cambiata, il livello applicativo è cambiato perché sono cambiati i linguaggi con cui è stato sviluppato. però si vede che è un collage di parti diverse, fatte in anni diversi, con tecnologie diverse che in quel momento andavano per la maggiore o erano il meglio che si poteva trovare. Questo era uno stato, diciamo così, naturale di quasi tutti i sistemi informativi aziendali, che sono sistemi che nascono e continuano a vivere negli anni, quindi sono soggetti a continua evoluzione. Non hanno il lusso di un Facebook che avrà miliardi di utenti ma fa una cosa sola e quando lo cambiano lo cambiano per tutti, fine. E in realtà sta usando sempre la stessa tecnologia da quando è nato adesso perché sono pochi anni che esiste, non si sono ancora succedute molte generazioni di tecnologie. quindi le modifiche in realtà sono state abbastanza limitate da questo punto di vista. Dal punto di vista hardware vi accennavo al fatto che prende sempre più piede il modello cloud di cui abbiamo già parlato che permette di usare dei server senza possederli. adesso non entro nel dettaglio. Questa figura che in realtà è un po' un po' datata nei dettagli, però mi serve per ragionare insieme a voi sulla separazione che c'è tra i vari livelli. Qui ci sono i vari livelli che vengono chiamati presentazione, logica applicativa, gestione dei dati. Quindi tre livelli di prima. Presentation, logic and data. E abbiamo questi due gruppi di blocchi. Immaginatevi che il gruppo di sopra è sul client sia sul client e il gruppo di sotto sia sul server. Cioè noi abbiamo sempre un utente che usa un client, il suo pc per dire, e un server che sta da un'altra parte. Allora, come si dividono i tre livelli presentazione, logica e applicazione tra server e client? Ecco anche qui la risposta non è univoca. Dipende dall'architettura del sistema che è stata impostata da chi l'ha progettato. Ad esempio, noi possiamo avere delle... Immaginiamo la seconda colonna. La seconda colonna è quella più tipica dei siti web, classici, quelli più tradizionali. dove tu sul server hai i dati, hai la logica e poi la presentazione, cioè l'interazione, i bottoni, l'interfaccia e le icone, li hai sul client, li hai sul tuo browser. Quindi l'interazione utente, la file sul browser, la logica applicativa e la gestione dei dati, la fai sul server. In realtà oggi, parlando di applicazioni web, stiamo andando su un modello che è più simile a quello della terza colonna. in cui anche sul client, anche sul browser, già si fa dell'elaborazione. Quando voi, esempio banale, compilate i campi di un form, vi registrate un sito, lui non vi lascia schiacciare il bottone, registrate, finché non avete completato tutti i campi, e la password l'hai messa due volte, e c'era la lettera maiuscola, e l'hai ripetuta uguale, e hai scelto la provincia, e che... e feci tutto sia a posto. Allora, quei controlli lì, li fa direttamente il browser, con un pezzo di javascript che ci hanno messo dentro. Quindi alcuni dei controlli di logica possono essere già fatti, delegati, demandati al client. Lo capiamo ancora meglio quando pensiamo alle applicazioni mobili. Tu ti scarichi un'app, e fai operazioni con l'app. E quell'app sta girando sul tuo telefono, sul client. E l'app che fa i controlli, se puoi andare avanti, se puoi tornare indietro, che cosa puoi fare, eccetera. Quindi, nelle applicazioni web moderne, o nelle applicazioni mobili, il client non serve solo a mostrare l'interfaccia, ma anche una parte di logica applicativa. Ovviamente i dati stanno sempre sul server, al salvo. Non stanno nel mio telefono i dati veri. Nel mio telefono stanno quel minimo, quel server, per gestire la transazione del momento. Ma i veri dati sono comunque sempre memorizzati a livello del server. Notate qua una duplicazione della logica applicativa. Dice, ma ce n'è un pezzo sul server e un pezzo sul client? Sì, certo. Perché il client uno può fare solo fino a un certo punto. Perché il client non ha accesso a tutti i dati, quindi certe scelte non le può fare. Certi controlli non li può sapere perché non sa tutto. Quindi, la logica applicativa che sta sul client sarà principalmente dedicata a gestire l'interazione con l'utente, la validazione dei dati, eccetera, eccetera. Il front-end. Gestisci la logica del front-end. Poi, quando da un comando esecutivo, ci sarà una logica applicativa sotto che poi va a verificarla rispetto ai dati veri e propri. Oppure la modifica dei dati la può fare solo questa. Perché questa sopra non ce l'ha i dati, non li può toccare, non li possiede. Ma c'è anche un altro motivo. Che questa logica applicativa qua non si fida di questa. E quindi, quando questa fa dei controlli, quella sotto li rifà. Perché? Perché sennò sarebbe troppo facile fregarmi. Io ti prendo l'applicazione mobile, prendo un hacker, la smonta, la disassembla, la modifica e ne fa una versione modificata dove una serie di controlli qua non vengono più fatti. Dà il comando sotto e se questo sotto si fidasse di ciò che ha fatto quello sopra, eseguirebbe dei comandi non verificati. Quindi questo non si fida mai. Il server non si fida mai di ciò che gli dice il client. Lo riverifica sempre per conto suo. E poi c'è il programmatore del back-end che non si fida del programmatore del front-end. Questo è anche... e quindi dice. Ma in ogni caso, gli accessi qua sotto devono essere protetti. Quindi la vera logica applicativa che serve è sempre sotto sul server. Sul client può esserci un pezzo in più che facilita l'interazione con l'utente, accelera alcune verifiche, accelera alcuni check e quindi rende l'applicazione più responsive, più rapida, eccetera. E poi ci sono sempre i dati ben protetti. Questa quarta colonna non la voglio neanche vedere, anche se è possibile, no? Concettualmente. Cioè avere un'applicazione di front-end che ha accesso diretto al database. E catombe. Un bacco di programmazione sul front-end oppure qualcuno che riesce ad hackerarmi il telefono può modificare direttamente i dati del database. Bypassando qualunque logica di controllo. Mai. Mai. Non è vero mai, scusate. In ambiti estremamente controllati si può anche pensare che sia così. Se questo è il software, che cavolo ne so, di controllo di un velivolo, di un aereo, dove so esattamente chi c'è. Non è che c'è uno che arriva, si attacca, si collega a internet. Ma c'è una rete locale controllata con delle macchine operatrici oppure se sono, che ne so, in ambito di fabbrica, di automazione di fabbrica, dove ho esattamente controllo su tutto, so chi si collega, so cosa fa, so chi l'ho fatto io, allora posso anche fidarmi. In un contesto aperto, in un sistema informativo aperto con degli utenti esterni, non mi posso fidare. Quindi, sono solo alcuni esempi per capire che in realtà l'architettura di un sistema informativo si può scomporre, ricomporre in modi diversi a seconda delle possibilità. Questa terza qui, che oggi è quella che va per la maggiore, la terza oppure l'ultima se vogliamo, adesso ve la commento, l'ultima, è stata possibile solamente quando sono nati gli smartphone oppure i browser che avesse una buona capacità di calcolo in javascript. Prima le applicazioni web si potevano fare solamente così, come nella seconda colonna. Quindi, le tecnologie si è evolute e quindi si sono aperte nuove possibilità che prima non c'erano. Adesso, se vogliamo, un'applicazione mobile è più simile all'ultima colonna, in cui l'applicazione fa già delle cose e ha già dei dati salvati, che magari non sono quelli definitivi, sono quelli provvisori, sono una fotocopia, no? Ma per poter lavorare direttamente e poi comunica con l'applicazione remota, col server vero e proprio, quando deve fare operazioni più complesse. Ma già di per sé è autonoma e quindi anche senza connessione può fare delle operazioni, che poi verranno sincronizzate col server quando la connessione ci sarà oppure quando sarà opportuno farlo. Ecco, ciò che non ho detto, scusate, non voglio dirlo all'inizio, è che tra la parte sopra e la parte sotto ci sta la rete, ci sta internet di mezzo tipicamente, quindi quando passo dal colore scuro al colore chiaro, quindi anche qui devo collegarmi col server che sta in un luogo diverso rispetto al client. ecco, dal punto di vista dell'infrastruttura tecnologica, che è quella di cui ci occuperemo di meno nel resto del corso, quindi ne parliamo un po' di più in questa fase introduttiva, è quella che permette di definire alcuni aspetti qualitativi, qualitativo è una parola sbagliata in italiano, perché in realtà stiamo parlando di numeri, quindi quantitativi, alcuni attributi del sistema informativo. Provo a dirlo in un modo diverso. La parte del software, quindi l'architettura applicativa, definisce soprattutto che cosa il sistema può fare. l'architettura tecnologica definisce innanzitutto come sistema organizzato e quanto è efficiente. Dicevamo prima, se ho 100 utenti, se ne ho 10.000, il software può essere lo stesso, ma l'hardware deve essere diverso. Quindi il sistema informativo deve anche essere misurabile attraverso una serie di indicatori, diciamo, di prestazione. Più avanti li chiameremo requisiti non funzionali o requisiti di qualità, come ad esempio, non so, il tempo di risposta. Se voi usate un sito che tra un clic e l'altro richiede di aspettare 10 secondi, vi stufate. Quindi esistono dei limiti entro i quali il sistema informativo deve essere in grado di rispondere agli utenti. Ve ne accorgete quando fate il carico didattico, in cui tutti fanno il carico didattico nella stessa settimana, e il portale didattica, ultimamente non più tanto, però un po' di anni fa collassava sempre, tutti gli anni a settembre collassava. Non si può usarlo, per cui uno doveva mettersi a svegliere tra di notte per fare il carico didattico, perché non c'erano tanti utenti collegati. Quindi, al di là delle funzionalità che deve offrire un sistema, mi chiedo anche con quale livello di qualità queste funzionalità vengono offerte. Posso fare il carico didattico? Sì. Ma sì, ma quando lo uso, mi rispondi in un decimo di secondo, o mi rispondi in 20 secondi, oppure va in time out dopo 30 secondi? Qual è il livello di scalabilità del sistema che ho progettato? Cioè, se oggi funziona con 100 utenti, domani funziona con 1000, è predisposto per funzionare con 10.000? La risposta può essere sì, è già pronto per funzionare con 10.000, oppure può essere sì, l'ho già progettato pensando ai 10.000, ovviamente dovrei comprare dell'altro hardware, ma è solamente da contrarre e installare. Oppure, no cavolo, non ci avevo pensato, quando superiamo i 5.000 andiamo in crisi e vanno riprogettate proprio delle parti perché non era stato pensato. Un altro livello qualitativo, la disponibilità del sistema. Il sistema funziona benissimo, veloce, ma un giorno sì, un giorno no, è spento, è raggiungibile. No, quando io ho un sistema dovrebbe essere funzionale, raggiungibile, non oso dire il 100% del tempo, perché non è materialmente possibile, però il 99, tanto per cento del tempo. E così via, cioè c'è tutta una serie di misure che non ci dicono, non ci descrivono l'architettura tecnologica, cioè come è fatto il sistema, non ci descrivono l'architettura funzionale, cioè ciò che il sistema fa, ma ci descrivono come fa, quanto bene fa, le cose che sta facendo. Quindi le varie funzionalità, quanto bene vengono implementate. La tecnologia, quanto bene regge in termini di disponibilità, in termini di scalabilità e così via. Questi sono fattori che hanno un impatto anche forte sul costo di sviluppo di un sistema informativo. Perché significa andare a fare progettazioni più complicate, dicevo il sito del nostro corso in cui c'è materiale didattico. Quello è stato impostato con un'architettura software pensata per girare su una macchina sola, su un computer solo. Se anziché avere 100 e qualcosa studenti, ne avessi 100.000, quello non regge. Ma per come è stato pensato il software di quel sito, non il prodotto che abbiamo usato per creare il sito, non è pensato per essere replicato. Quindi anche se avessi più hardware, quel software non lo usa. Non è pensato per resigenza di scalabilità. Il database è pensato uno solo, non può essere replicato. Quindi se dovessi salire di dimensione, dovrei proprio rifare il sito con un software diverso. Non semplicemente aggiungere più hardware. E se io l'avessi già dovuto pensare fin dall'inizio in ottica di scalabilità, anziché farlo magari in due settimane o un mese di lavoro, ci avrei messo molto di più. Perché avrei dovuto dall'inizio pensarlo su un target di utenza molto più ampio di quello che non avessi. E questo è ciò che dà una forchetta, è l'ultimo concetto che vi passo oggi, molto ampia nel costo dei sistemi informativi. Se io devo fare il sito per il mio cugino che fa il macellaio e devo mettersi su le foto dei suoi prodotti, il listino, magari la possibilità di prenotare, mandare dei messaggi, ha un costo. Se devo fare invece un sistema che deve reggere, deve gestire il frontend di un'azienda che fa commercio elettronico, le funzionalità non sono molto diverse. Un insieme di prodotti, devo poter selezionare alcuno, devo poter mandare un ordine. Le funzionalità non sono così dissimili. Lo sono i requisiti di qualità che stanno a monte. Cioè il sito che faccio al cugino, se anche un giorno è giù e non funziona, pazienza. Se è un po' lentino, quando ci sono tanti utenti, pazienza. Ma per lui tanti utenti saranno magari 20. Mentre dall'altra parte ho gli utenti che si contano in migliaia, che non possono essere, il sito non può mai essere non disponibile, deve funzionare sempre a qualunque ora del giorno e della notte. Per cui se c'è qualcuno che non va alle 4 del mattino, se c'è qualcuno che deve alzare il telefono, deve rispondere, salire sulla bicicletta e andare a aggiustare il problema. E quindi tutti questi aspetti, a quasi parità di funzionalità, ti danno poi un costo di implementazione e di gestione che è 100 volte superiore in un sistema informativo aziendale rispetto al sistema informativo amatoriale. Questo concetto purtroppo molti committenti non lo vogliono capire. Che la qualità costa. Per cui si vedono molto spesso delle gare al ribasso, al ribasso sul prezzo, dicendo ma io il sistema informativo ho un preventivo che fa X. Eh ma c'è tizio che me lo fa a metà del prezzo, o un decimo del prezzo. Non è la stessa cosa. Sì ma fa le stesse cose. Sì, fa le stesse cose ma non le fa nello stesso modo, con la stessa qualità eccetera. Però sono concetti di qualità, affidabilità, robustezza, estendibilità che chi compra non capisce o non vuole capire. Voi quando andrete a fare questo lavoro le capirete, spero. Vi ricorderete della differenza tra comprare una cosa di alta qualità o bassa qualità. Poi riprenderemo questo chiaramente quando faremo i KPI dove andremo ad elencare queste caratteristiche. Per oggi vi lascio e ci vediamo martedì.